Prosegue il ciclo di speciali estivi di Agorà. Questa sera il noto rotocalco settimanale di Canale 10, ideato e condotto da Franco Gallo, torna in onda per affrontare temi che riguardano, come sempre, la città di Gela. E siccome in questi giorni è tornata a scoppiare l'emergenza rifiuti in città, ecco che Agorà non poteva non accendere i suoi riflettori su questa ennesima piaga che tormenta le calde giornate estive dei cittadini gelesi. Con ospiti in studio, tra i quali il consigliere comunale, presidente della Commissione Ambiente e Sanità, Virginia Farruggia, che proprio ieri ha diramato un duro documento sull'emergenza spazzatura in città. Sarà presente anche il vice sindaco e assessore al ramo, Simone Siciliano, e altri ospiti ancora. Appuntamento dunque a questa sera a partire dalle ore 21, con una nuova interessante puntata speciale, edizione estate di Agorà.